Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeonico, la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo, per un attimo di pazienza, adesso metto un po' a posto con queste cose. Bene, riprendiamo qui la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo, che abbiamo lasciato nella prima parte, e riprendiamo il discorso con il discorso della meditazione. Prima di partire con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo, il discorso della meditazione, voglio darvi un annuncio, siccome mi ha avvertito mia figlia, che sono state caricate su internet al sito www.federazionepagana.it, sono stati caricati tutta una serie di sequenze fotografiche del riti che abbiamo ottenuto, e in particolare è stato sistemato il rito del equinozio di primavera. Sia gli inni, ma sia tutte le sequenze fotografiche, che una volta aperti i siti, cioè una volta aperte le pagine, vi vengono fuori in sequenza automatica, per cui potete vedere come se fossero tutte le diapositive, diciamo così, che scattano, una dopo l'altra, relative al rito del equinozio di primavera. E' stato caricato anche dei brevi filmati, un paio di brevi filmatini, e sono state caricate anche le sequenze dei riti precedenti, sempre dell'equinozio di primavera. Per cui stiamo caricando praticamente quelle che sono le sequenze fotografiche dei vari riti che si sono ottenuti fino adesso, stiamo caricando anche le pagine del VCR, stiamo caricando tutto quello che riusciamo a caricare chiaramente, e io trasporterò su quel sito anche quasi tutte le pagine che ho in giro sparse per web, ci vorrà chiaramente tempo, è un lavoro tecnico, è un lavoro noioso, comunque riusciremo a farlo tutto quanto, insomma penso in tempi abbastanza buoni. Comunque ricordate che tutte le pagine comunque sono in internet, sono un po' sparse attraverso 5 o 6 siti, un po' alla volta verranno concentrate sul sito della federazione pagana.it, ed è un lavoro abbastanza complesso che viene fatto nel suo insieme. Niente, ho capito, abbiate pazienza un attimo, vi metto due secondi di musica, tre secondi di musica, vado a sistemare un paio di cosette. Abbiate pazienza perché purtroppo la situazione è quella che è e mi devo in qualche modo arranciare, per cui vi metto su un cd a caso e fra tre minuti sarò ancora in linea. Scusate per l'interruzione ma ho dovuto sistemare una cosa che era abbastanza urgente. Bene, niente, vi ripeto, allora sul sito praticamente abbiamo messo, stiamo caricando anche sequenze filmate, sequenze di immagini, rilatteveriti che teniamo sul Bosco Sacro e che teniamo sull'altipiano di Asiago. Un po' alla volta trasferirò tutte le pagine che ho in giro per web e le trasferirò su quel sito. Naturalmente resteranno sempre in giro anche sugli altri siti, però diciamo così che il sito federazionepagana.it diventerà un sito di riferimento, sempre tenendo presente l'altro sito che è federazionepagana.com sul quale vengono caricate tutte le trasmissioni radiofoniche, perché vi ricordo che tutte le trasmissioni radiofoniche vengono caricate su quel sito. C'è anche un'altra operazione in corso che sta facendo un amico, che è quello di non solo mandare queste trasmissioni in internet, oltre naturalmente al collegamento della radio, vi ricordo che la radio gamma 5 è comunque il suo collegamento, il suo contatto in internet. Indipendentemente dalla radio gamma 5, noi mandiamo comunque in internet queste trasmissioni e un amico sta preparando praticamente un server che lavora 24 ore su 24 mandando in replica le trasmissioni degli ultimi anni, per cui avrete una continuità di trasmissioni praticamente 24 ore su 24, lasciando la diretta per quello che è il giorno del giovedì dalle ore 15 alle 16 e 30 e dalle ore 19 alle 20 con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Comunque tutte le trasmissioni che sono chiaramente un patrimonio un patrimonio che abbiamo accumulato in 10 anni di trasmissioni radiofoniche restano comunque in circuito e vengono comunque rimandate in continuazione per cui è materiale che non andrà perso e non andrà dimenticato. Ok, detto questo, prendiamo un attimino il discorso sulla trasmissione serale che è relativa a continuare quello che era il discorso che facevamo relativi alla meditazione. La meditazione, abbiamo detto esattamente che cos'è, è un metodo attraverso il quale chi pratica stragonaria mette ordine nel suo pensiero, nel suo pensato. Ora, può essere anche difficile alle persone dire ma io non ho un pensiero caotico, a me sembra di pensare in maniera lineare mi sembra di pensare in maniera logica e in realtà anche questo è un inganno della ragione. Pensare in maniera lineare e pensare in maniera che sia funzionale il nostro modo di rapportarci col mondo è comunque un esercizio che è abbastanza complesso e questo esercizio non viene insegnato alle persone in quanto tale cioè in funzione di se stesse ma viene per esempio insegnato in parte in alcune forme attraverso la cultura scolastica per esempio quando voi fate un tema cioè vi dicono a scuola di fare un tema cos'è che vi danno? vi danno un titolo e vi dicono di svolgere il tema relativo al titolo relativo al capitolo che vi danno ecco, quello è un modo che si usa per mettere ordine nei pensieri cioè è una tecnica che si usa proprio per mettere ordine nel proprio pensato in pratica cosa che si fa? si dà il fine da raggiungere cioè il fine è il titolo del tema e il tema deve svolgere, deve sviluppare quel titolo che viene dato e questo è uno dei sistemi che la cultura usa proprio per mettere ordine nel proprio pensiero naturalmente cosa succede? succede che mano a mano che la cultura penetra nell'individuo cioè l'individuo ha il suo curriculum scolastico la sua crescita scolastica cosa fa? la sua ampia, la sua abilità nel sviluppare un tema rimanendo aderente ai termini del tema e questo è abbastanza difficile per una persona normale cosa significa essere aderenti al tema che si svolge? significa non andare fuori dall'argomento significa che una volta che vengono dati i limiti e i parametri entro i quali parlare, entro i quali discutere quei parametri devono essere rispettati quante volte le persone che sono andate a scuola nel giudizio sul tema dicevano sei andato fuori tema significa che hai sforato praticamente anziché rispettare quelli che erano i parametri che ti erano dati nello svolgimento del tema in realtà hai sforato sei andato fuori tema andare fuori tema significa non riuscire a svolgere il proprio argomento il proprio pensiero in relazione a ciò che si vuole dire o che si richiede venga detto e questa è una cosa gravissima cioè se io parlo se io dico parlare della consistenza delle patate non posso parlare delle proteine presenti nel fegato del pollo devo parlare delle patate e è abbastanza difficile le persone rimanere in quel tema anche perché spesso le persone cosa succede? quando hanno torto quando non riescono a reggere una discussione cos'è che fanno? aggiungono nuovi elementi se qualcuno si è letto la critica alla ragione pura di Kant nella critica alla ragione pura di Kant Kant ogni volta che fa un discorso stabilisce i parametri dentro i quali quel discorso deve o può e deve essere fatto una volta stabiliti i parametri il discorso deve stare dentro a quei parametri se vogliamo fare un discorso diverso dobbiamo stabilire dei parametri diversi la meditazione non è altro che questo quando qualcuno ha torto torno a ripetere cosa fa? sfonda i parametri viola le regole che sono state stabilite per il discorso e cerca di aggiungere qualcos'altro in modo da portare l'interlocutore su altri aspetti del discorso stesso cioè in pratica un discorso non sta più entro le regole fissate ma va oltre le regole va oltre quei parametri per cui dovrebbe essere richiesto un altro titolo al tema da svolgere e questo quando viene fatto questo è la mancanza di meditazione d'altro canto chi non è in grado di sviluppare una capacità di meditazione cioè chi non è in grado di fare esattamente quello che abbiamo detto o non ne ha la pratica perché ricordiamoci anche questo a volte spesso manca proprio la pratica del meditare magari siamo bravi a fare una certa cosa però non abbiamo l'abitudine di fare cosa di fare esattamente ciò che abbiamo detto nella meditazione però i miei occhi stanno andando un po' via devo mettermi anche gli occhiali meditare significa prendere un elemento della ragione per esempio la frutta e verdura lo si estrae dall'insieme della ragione cioè lo si estrae dall'insieme di tutto ciò che noi mangiamo lo si considera come un fenomeno a se stante cioè cominciamo a considerare la frutta e la verdura come una cosa a se stessa collochiamo la frutta e la verdura nel mondo in cui viviamo cioè la relazione che c'è fra noi e la frutta e la verdura trasferiamo sopra la frutta e la verdura le nostre emozioni in modo da riuscire a compenetrare l'oggetto in sé cioè la frutta e la verdura in relazione a ciò che noi vogliamo sapere dalla frutta e la verdura cioè ciò che noi ci interessa viviamo ciò che fa l'interazione fra noi e la verdura cioè viviamo anche in questo caso la frutta e la verdura ad esempio a caso che ho tirato fuori viviamo anche ciò che è la conoscenza l'intelligenza del nostro stomaco cioè viviamo anche quella che è la relazione delle singole sostanze della frutta e la verdura in relazione al nostro corpo e alla trasformazione che nel nostro corpo ne riceve verifichiamo se quello che pensiamo se quello che analizziamo è corretto lo verifichiamo proprio mangiando la frutta e la verdura vivendo la relazione con la frutta e la verdura e poi prendiamo tutta questa che possiamo chiamare esperienza che abbiamo fatto e la ricollochiamo nel mondo della ragione io ho usato il termine frutta e la verdura perché è stato il primo termine che mi è venuto in mente però posso usare qualunque cosa qualunque oggetto che mi interessa allora qualunque oggetto lo prendo dalla ragione lo estraggo dall'insieme che lo manifesta lo considero come un fenomeno a sé stante lo colloco nel mio mondo vi trasferisco sopra le mie emozioni verifico tutto ciò che ho appreso tutto ciò che ho meditato e ricolloco il tutto nella ragione nel mio pensato questa abitudine questo meccanismo dovrebbe diventare parte della nostra azione parte di ciò che noi normalmente facciamo nella vita di tutti i giorni però nessuno ce lo insegna cioè ce lo insegnano in maniera assolutamente collaterale quasi esclusivamente nei corsi scolastici dopodiché quando uno diventa abile a fare questo tipo di operazioni o perché è salito nella scala culturale o perché aveva la necessità di comprendere in maniera profonda certi aspetti del mondo o perché per una tendenza diciamo per abitudine perché ha visto che gli serve questo metodo lo ha interiorizzato succede che la sua capacità di analizzare il singolo oggetto di un discorso diventa estremamente più abile rispetto ad una persona che non ha assunto questo metodo di analisi all'interno della ragione per cui dopo dieci anni dopo quindici anni che una persona fa questa pratica nell'analizzare i fenomeni nel ricollocarli nel mondo nel viverli emotivamente ha un'abilità acquista un'abilità immediata rispetto ai nuovi fenomeni che si presentano riesce a capire immediatamente da dove escono che effetti hanno che impatti hanno sulle sue emozioni come vengono ricollocati nel mondo cioè questa persona acquisisce una capacità di analisi della propria mente una capacità logica talmente viva in funzione chiaramente al proprio intento in funzione della propria vita e normalmente le altre persone davanti a questa capacità si trovano completamente disarmate e questo è una cosa dopodiché cosa succede? succede che le persone che hanno sviluppato questa capacità che hanno interiorizzato questo metodo vengono viste male dagli altri perché gli altri le chiamano sapientone perché non sono più in grado di metterli con le spalle al muro perché non sono più in grado di metterli con le spalle al muro perché? perché se c'è qualcosa di nuovo qualcosa che io non so qualcosa che mi può servire per ciò che io faccio o per i miei intenti io non mi metto a fargli la guerra ma lo faccio mio lo interiorizzo e lo utilizzo cioè io non faccio una guerra per dimostrare di essere il meglio ma faccio una guerra per sviluppare la mia conoscenza e la mia consapevolezza pertanto tutto ciò che trovo nella mia vita che mi può servire che mi può migliorare che mi può portare agli obiettivi che mi sono prefissati oppure che mi posso presentare degli obiettivi migliori io semplicemente lo faccio mio e a quel punto nessuno dal punto di vista razionale dal punto di vista logica può più sopraffarmi ma per far questo devo avere un intento puro se non ho un intento puro allora ciò che io nascondo è ciò che guida le mie azioni è ciò che guida la mia azione nel mondo il mio pensiero il mio modo di essere ma se io ho un intento puro tutto ciò che mi si presenta nel mondo che io non conosco e che è migliore di ciò che io faccio io semplicemente lo faccio mio e lo riproduco all'interno di quello che faccio mi sembra semplice no? però per farlo è necessario non nascondere niente perché questo non lo può fare un cattolico perché un cattolico deve difendere il suo dio ma se difende il suo dio è un assassino e se lui deve difendere un assassino non può avere un intento puro deve sopraffare le persone in modo da costringere le persone ad accettare il suo dio assassino un cattolico non può essere una persona pura proprio perché a monte delle sue azioni c'è la determinazione del suo dio o del pazzo di Nazareth per cui un cattolico è sempre una persona sporca può essere un grande amico può essere un parente può essere una persona a cui sei affezionato che hai visto delle cose positive ma è sempre una persona sporca perché deve raggiungere un obiettivo cioè quello di possedere le persone che non sono in grado di difendersi chi invece ha un intento puro è inattaccabile non è importante tanto dopo lo metteranno sui rovi i cattolici per cui arriveranno sempre a risolvere le loro questioni però chi ha un intento puro è una persona inattaccabile e questo attraverso la meditazione può far propri e può far vocitare qualunque cosa si presenti il problema nel sviluppare la meditazione noi lo abbiamo su cosa? lo abbiamo su noi stessi il noi stessi all'interno della stragonaria in realtà è rappresentato dall'attenzione cioè quando io dico penso un determinato oggetto penso una determinata cosa voglio agire in un determinato modo in tutte queste cose c'è una costante la costante è la mia attenzione io mi rappresento nel mondo e io percepisco il mondo mediante la mia attenzione la magia nera dei cattolici funziona per distruggere la mia attenzione per distruggere la mia capacità di rappresentarmi nel mondo la meditazione ci permette di ripulire il nostro pensiero di ripulire il nostro pensato vedremo come la contemplazione ci permetterà di ripulire la nostra percezione vedremo come ascoltare le correnti vegetative ci dare invece la possibilità di fare altra cosa ancora la meditazione ci pulisce della nostra capacità di meditare di usare le parole di pensare di essere in sintonia col tema che dobbiamo svolgere ora se qualcuno ha dei dubbi siccome il corgiore dello stragone lo sto sviluppando da quasi dieci anni quasi dieci anni fa ho cominciato per questa radio io da la repubblica del giorno 03 08 2005 giorno 3 agosto 2005 cioè ieri vi leggo un articoletto e dice uno studio su nature spiega i meccanismi della percezione così il cervello seleziona le informazioni importanti attenzione cos'è che per noi per il nostro cervello è importante ciò che coinvolge le nostre emozioni ciò che è in sintonia con la nostra struttura emozionale come la nostra struttura emozionale è stata educata ha subito il condizionamento educazionale oppure è stata manipolata mentalmente così la nostra struttura emozionale va alla ricerca di ciò che per lei è importante però se io ho praticato meditazione o pratico meditazione posso mettere a posto le cose nel mio pensato vediamo come quella contemplazione mettiamo a posto le cose nella percezione come nel ascoltare le correnti vegetative mettiamo le cose a posto le cose dentro di noi in questo momento però stiamo parlando della meditazione cioè del pensato della nostra ragione in pratica cosa faccio io mettendo a posto le cose nella mia ragione quando leggo per esempio il Vangelo del buon samaritano mi chiedo come fa uno ad essere un buon samaritano se non ci sono i banditi per strada che ti massacrano e allora se qualcuno ha bisogno di essere il buon samaritano sicuramente organizzerai i banditi per strada che ti massacrano in modo che lui possa agire da buon samaritano ma per far questo per fare questa operazione di logica per fare questa operazione razionale è necessario aver affrontato la meditazione altrimenti chiunque dirà oh che buono che il buon samaritano ha soccorso quello che è stato picchiato e no è vero il buon samaritano soccorre chi è stato picchiato ma è una società che ha bisogno di picchiatori affinché possano esistere i buoni samaritani e questo è il vero guaio ora io posso soccorrere che è stato picchiato ma io devo fare in modo che in questa società non ci sia nessuno che picchia e che non ci sia bisogno di nessuno buon samaritano perché è vergognoso che una società abbia necessità dei buoni samaritani e siccome il bene o il male come voi lo concepite qualunque cosa sia nella vostra testa non nascono dal nulla ma vengono costruite mediante le azioni e mediante le condizioni che noi incontriamo nella nostra vita qualcuno per fare il buon samaritano ha costruito delle condizioni per cui le persone vengono bastonate e debbano aver bisogno del buon samaritano e questa è una vergogna però per far questo ci vuole la meditazione e allora cosa vanno alla ricerca le mie emozioni nel racconto del buon samaritano se io sono stato manipolato mentalmente del buon samaritano vedrò solo il soccorso al disgraziato se io non sono stato manipolato mentalmente vedrò una società in cui c'è la necessità di un intervento generale affinché le cose non siano drammatiche e per favore io so come si costruisce la miseria morale la miseria etica la miseria esistenziale e i cristiani non mi vengono a dire che questo stato di cose è sempre esistito questo stato di cose la miseria per cui le persone hanno bisogno di aiuto in questo modo lo hanno costruito loro con la loro feroce assassina e con gli insegnamenti del buon samaritano e allora se uno ha le emozioni manipolate in quel modo percepisce solo quell'aspetto e non vede tutto il resto più o meno al discorso il dito che indica la luna l'imbecille o guarda il dito o guarda la luna ma non coglie la relazione fra il dito e la luna fra gli uomini e il mondo in cui vivono e allora proviamo un po' a leggersi sta roba uno studio su natura spiega i meccanismi della percezione così il cervello seleziona le informazioni importanti è proprio vero quando una cosa ci sembra importante non vediamo altro il cervello umano infatti sembra dare priorità agli eventi che considera importanti illudendoci che essi avvengano prima di altri semplicemente intensificandone la percezione per cui se si intensifica la percezione su un fenomeno vuol dire che la percezione su altri fenomeni viene allentata andiamo un po' avanti ciò significa che sul piano temporale l'uomo tende a percepire prima gli eventi cui presta maggiore attenzione naturalmente se qualcuno vuole fregarvi vi presenta prima gli eventi su cui voi dovete concentrare la vostra attenzione questa tecnica è usata nei Vangeli per esempio quando voi vi leggete il raccontino il raccontino tipo non so il discorso delle mine di Luca quando Gesù dice prendete quelli che non volevano che io dominassi sopra i loro e sgozzate in mia presenza non lo trovate all'inizio all'inizio della storia evangelica trovate tutte le farneticazioni che gli altri sono brutti che gli altri sono cattivi è alla fine che Gesù ordina di sgozzarli ma la vostra attenzione è presa sempre dalla prima parte del raccontino e questo vale anche quando il Dio dei cristiani ordina di prendere il disgraziato che non è vestito come dovrebbe essere vestito a nozze e di legarlo bastonarlo e di buttarlo fra stridordi denti lo trovate alla fine del raccontino tutte le cose perverse del patrio di Nazareth le trovate alla fine del raccontino proprio perché all'inizio della parabola serve per afferrare l'attenzione per esempio quando Gesù dice io sono il padrone delle tradizioni voi all'inizio della storia trovate che c'è un povero cieco che ha bisogno di essere guarito quando lui vi dice io sono il padrone delle tradizioni in realtà questo essere padrone delle tradizioni ha distrutto centinaia di popoli ha macellato migliaia di persone gente che non aveva nessun bisogno di essere curata da sabato di essere curata dalla cicità di sabato però voi concentrate la vostra attenzione sulla parte iniziale della storietta evangelica il povero cieco che aveva bisogno di essere guarito e Gesù lo ha fatto di sabato vedi lui è giusto ha violato una tradizione ma è giusto ma nel corso della storia con questo ordine la chiesa cattolica ha violato milioni di tradizioni di milioni di popoli e li ha macellati come bestiame li ha sgozzati squartati per cui attenzione qui ci vuole molta meditazione per riuscire a capire il significato delle parabole dei Vangeli perché sono truffaldine perché sono degli atti criminali sono delle vere e proprie operazioni politiche che afferrano la vostra attenzione è la conclusione tutto questo che emerge da uno studio internazionale condotto dall'IRCSS Fondazione Santa Luce di Roma in collaborazione col Dipartimento di Neuroscienze dell'Università della California pubblicato sulla rivista Nature Neuroscienze la ricerca ha analizzato un fenomeno percettivo attenzionale dove due oggetti presentati simultaneamente vengono invece percepiti in sequenza poiché l'apparizione dell'oggetto a cui si presta maggiore attenzione è anticipata rispetto a quello a cui se ne presta meno ed è un esperimento che funziona anche per la pubblicità funziona per vendere le idee del commerciante di piazza dell'imbonitore del baracone funziona per il politico funziona per tutta una serie di meccanismi che sono dei meccanismi coercitivi spicci proprio per le persone che non esercitano la loro attenzione vi faccio un esempio di qualche giorno fa io ho un paio di ritaglietti giornali su ciò che si percepisce e ciò che si vuole percepire per esempio a Dacerra a Napoli la Madonna che si muove molti dubbi della diocesi centinaia i fedeli dopo aver atteso per ora l'apertura della chiesa di San Pietro da Dacerra sono entrati ieri sera per vedere la Madonna che si muove mescolati alla folla agenti della polizia e carabinieri che stanno assicurando il servizio d'ordine tra i fedeli richiamati dal fenomeno c'erano molti bambini e ammalati giunti in chiesa per chiedere l'intercessione per guarire i pellegrini durante l'attesa hanno recitato il rosario le autorità ecclesiastiche che esprimono dei dubbi sul fenomeno terranno aperta la chiesa solo il pomeriggio nessun effetto anomalo è stato rilevato sulla statua dalla polizia cosa è successo? dopo vedremo anche visto che è stata un po' risolta la questione praticamente della gente che voleva vedere percepire quella cosa ha dichiarato che ha percepito una cosa immediatamente sta gente ha mandato l'informazione di ciò che loro affermano di aver percepito si raduna gente interviene polizia e carabinieri e non succede assolutamente niente dopodiché questo del 28-7 naturalmente quello che vi ho letto viene fuori un altro trafiletto sul gazzettino Napoli Madonna di Acerra nessun miracolo i primi rilievi danno esito negativo il fenomeno della trasparenza della statua della Madonna di Acerra sarebbe dovuto a reazioni fisiche le indagini condotte dalla polizia scientifica sulla statua della Madonna della Chiesa di San Pietro lasciano ipotizzare che le presunte anomalie siano determinate da reazioni fisiche del materiale della statua in resina e fibre di lana di vetro dello strato interno della statua sensibili a fonte di calore e luce esaltate dalla definizione delle immagini digitali pertanto ciò che le persone hanno percepito una cosa ciò che le persone volevano percepire era un'altra cosa ancora ma quando le persone hanno mandato l'informazione non hanno mandato l'informazione su ciò che hanno percepito ma hanno mandato l'informazione su ciò che loro volevano percepire e questo è un effetto della manipolazione mentale della capacità di percezione delle persone operata dalla Chiesa Cattolica naturalmente immediatamente disgraziati i samaritani picchiati sono andati là per chiedere cioè le persone picchiate sono andate là a chiedere alla Madonna la samaritana di guarirle dalle malattie è una cosa infame è una cosa squallida fare questo significa truffare le persone ma non le persone che hanno visto in sé il fenomeno ma quelli che hanno truffato quelle stesse persone alterandoli e manipolando la loro percezione ed è grave questo perché è un effetto di manipolazione mentale è semplice creare aspettative creare illusioni illusioni che prendono poi la forma anche materiale di cose che si possono presentare immediatamente ebbene con un effetto di meditazione nella scrittura nella scrittura scritta cioè nelle cose che vengono dette questo fenomeno di percezione non può succedere perché la capacità di analisi di chi pratica meditazione praticamente stoppa qualsiasi illusione che si vuole proiettare sopra non solo ma chi pratica meditazione ha anche maggiore capacità di lettura nel senso tipo un vangelo scritto non leggo mezza storiella e poi lascio perdere leggo dalla prima all'ultima parola leggo ogni senso perché ogni senso è un oggetto per cui non mi illudo ma leggo e analizzo e questo lo può fare solo chi pratica meditazione andiamo avanti con la traccia che abbiamo tenuto fino adesso in questo momento l'individuo vede mettersi in moto la forma dalla quale sorge la propria ansia ansia tipo l'ansia che ha indotto per esempio quei fedeli della Madonna a vederla Madonna muoversi è una forma d'ansia cioè una forma di malattia loro volevano vedere quella cosa e al primo fenomeno strano che si è presentato anziché di analizzare il fenomeno hanno gridato al miracolo ed è una forma ansiosa che è data dal timore delle risposte che dal mondo in cui vive si manifestano nei confronti per avere espressi i propri bisogni le proprie tensioni i propri desideri senza la rassicurante gabbia descrittiva o morale della ragione il sorge dello stato ansioso viene fermato quando l'individuo inizia a meditare sui bisogni sulle tensioni e sui desideri del mondo per cui immagina che il mondo reagisca in quel modo al suo esprimere le proprie tensioni i propri desideri e i propri bisogni l'individuo mediante la meditazione si identifica con l'altro in relazione alle proprie azioni finalizzate a manifestare i propri bisogni tensioni e desideri immaginati immaginandone reazioni e adattamenti questo immaginare l'altro attraverso un pensato che rallenta il flusso di parole e che riversa uno stato emotivo legato ad espressioni ansiose porta la struttura psichica dell'individuo a soggettivare il mondo in cui vive e a compenetrarlo in relazione a se stesso questo meccanismo se non è sorretto dall'autodisciplina dell'individuo porta ad ingigantire nell'immaginario le reazioni del mondo fino a portare ad attacchi di panico una volta portato questo nella sua meditazione l'individuo procede a mettere ordine nelle strategie che il mondo che considera potrebbe adottare nei confronti della sua espressione di tensioni desideri e bisogni questo tipo di meditazione viene riportata nell'espressione dell'attenzione bisogni e desideri espressa dal soggetto e alla sua strategia espressiva che tenga conto delle strategie di reazione del mondo in cui vive alla sua azione la meditazione prende in esame un elemento della tensione bisogno o desiderio del soggetto lo estende tentando di liberarlo dalla forma espressiva o dalla morale coercitiva imposta dalla ragione questo elemento viene assunto dal soggetto emozionalmente nella sua espressione del mondo che li considera essere natura sistemi sociali lavorativa familiare eccetera eccetera il soggetto ne sorpesa le strategie di reazione del mondo in base alle proprie strategie espresse mantenendo alta l'emozione nella ricerca del principio del piacere nell'esprimere tale bisogno e tale tensione fino a penetrare il mondo in cui vive e a scorgere strategie espressive capaci di superare stati d'ansia nella ricerca del principio del piacere la meditazione costringendo l'individuo a vivere una situazione nell'immaginato in un modo emotivamente intenso ridefinisce la collocazione e il ruolo delle forze della vita emozioni desideri tensioni e bisogni nella ragione che li manifesta infatti il risultato dell'attività di meditazione è quello di ridefinire il ruolo della ragione dentro noi stessi la sua struttura descrittiva la sua forma la sua morale e in generale la struttura che assume nel rappresentarci davanti al mondo questa azione di meditazione viene utilizzata nella pratica del vivere per sfida che l'individuo pratica nel quotidiano così la meditazione elabora gli elementi del quotidiano vivere per sfida sotto forma non solo di situazioni affrontate o da affrontare ma soprattutto delle tensioni dei desideri dei bisogni che in quelle situazioni concorrono la qualità del vivere per sfida determina la qualità della meditazione determina la quantità di energia psichica coinvolta e la quantità di trasformazione emozionale che l'individuo attua in se stesso attraverso la meditazione la meditazione è dunque uno strumento di modificazione soggettiva per migliorare le nostre possibilità nel mondo quotidiano per vivere per sfida si innesta un processo di trasformazione della ragione soggettiva che si struttura per manifestare le forze della vita che da noi emergono sotto forma di tensioni bisogni desideri ed emozioni rimuovendo almeno per quello che ci serve in quel momento l'attività coercitiva della ragione volta a soffocare le forze della vita rinchiudendole in una descrizione sempre più misera e ristretta e un caos sempre più psicologicamente distruttivo imposto all'individuo attraverso il condizionamento educazionale il caos della ragione si costruisce nell'individuo e si impone all'individuo attraverso il condizionamento educazionale che l'individuo fa proprio per evitare gli attacchi d'ansia che le reazioni del mondo ad atteggiamenti diversi da quelli imposti dal condizionamento educazionale provocarebbero in lui il condizionamento educazionale imposto all'individuo si difende dai tentativi dell'individuo di modificarlo o di sottometterlo alle forze della vita mediante la paura cioè mediante il timore di non essere più in grado di far fronte alle azioni che dal mondo vengono verso di noi qualora noi violiamo le regole che moralmente ci sono state imposte e per regole intendo anche il credere l'immaginare e il concepire diverso da quando educazionalmente imposto l'immaginario dell'individuo è una delle chiavi sia per uscire dalla coercizione sia per imporre attacchi di panico dove sta la differenza fra uscire dalla coercizione e gli attacchi di panico dalla capacità dell'individuo di usare l'immaginazione della propria meditazione non su astrazioni fine a se stesse ma legate alle proprie necessità quotidiane l'ultima difesa della ragione contro ogni modificazione sta nel tracciare un solco profondo fra l'immaginario dell'individuo gli asini che volano babbo natale il dio creatore il pazzo di nazareth e l'uso dell'immaginario in relazione alla propria quotidianità cioè i propri bisogni le proprie tensioni i propri desideri nella loro espressione quotidiana per rimuovere la paura è necessario mettere ordine nel caos della ragione mediante la meditazione affrontare e vincere la paura è attività attraverso la quale l'individuo continua ad espandere se stesso che cosa si intende per paura si intendono tutte quelle ansie dubbi incertezze tremori sudorazioni che assalgono l'individuo quando affronta qualche cosa qualche problema la cui soluzione potrebbe ampliare la sua percezione del mondo in cui vive e la descrizione della ragione nella specie umana c'è una forma psichica che chiamiamo comunemente e impropriamente paura secondo una lettura approssimativa di Schopenhauer sulla volontà si ha l'uomo è comunque sottoposto alla volontà che tenta di soddisfare se stessa la vita non ha altro interesse che perpetuare se stessa le coscienze di sé sono manifestazioni consapevoli di volontà che inseguono la soddisfazione dei bisogni senza mai appagarli pienamente perché ne nasce subito un altro da cui le tensioni e l'infelicità da qui le tensioni e l'infelicità il non perpetuare la vita espandendo se stessi è la funzione del meccanismo che noi genera la paura che poi si esprime in forme diverse anche nella sua funzione originale da qui il timore di non perpetuare la vita questa forma psichica si trasferisce nella ragione sotto forma di paura di perdere il controllo dell'individuo paura dei nuovi fenomeni che mettono in discussione l'equilibrio raggiunto dalla ragione e sul controllo dell'individuo la paura generata dalla ragione e imposta col condizionamento educazionale è una forma ossessiva che nei casi più gravi produce manifestazioni riconducibili a patologie psichiatriche non si sta assolutamente parlando della paura del vuoto di quella generata da animaletti schifidi o la paura per gli animali anche se il meccanismo li comprende spesso quel tipo di paura è generata o da effetti fisiologici riportati nella struttura emozionale come le vertigini prodotte dal liquido nelle orecchie o da incapacità di affrontare gli oggetti del mondo trasmesse al bambino o dagli adulti possono essere persone anziane o persone incapaci di affrontare il mondo mancanza di conoscenza interiorizzata per superare queste paura se si ritiene necessario farle si affronta l'oggetto imparando prima a conoscerle poi analizzando le nostre sensazioni poi verificando quelle sensazioni in relazione all'oggetto la pratica supera la ribugnanza spesso è una pratica che non serve perché non serve perché non è una vera e propria paura è interiorizzamento in un atteggiamento imposto la paura è quella che si esprime bloccando noi stessi nella corsa all'inseguire la soddisfazione dei bisogni e gli sforzi che mettiamo in atto per appagarli la paura è quanto ci impedisce di trasferire il nostro essere individui della natura nei bisogni e nella soddisfazione di esseri sociali la paura dell'attività della morale sociale quella che ha terrorizzato gli anarchici impedendo loro di chiedere al comune per noi una stanza nella quale tenere conferenze come si rimuove la paura con la meditazione cioè isolando il fenomeno dal caos d'insieme in cui si manifesta facendo affluire pensiero lento rallentando le parole facendo spazio alle sensazioni che quel fenomeno suscita e affrontando quel fenomeno nella vita quotidiana affrontare il fenomeno nella vita quotidiana nel vivere per sfida chissà cosa ti succede se manifesti un pensiero con quel linguaggio per radio dando il tuo nome cognome e indirizzo questa me l'hanno detta circa dieci anni fa dopo quasi dieci anni non è successo assolutamente nulla in realtà le persone si impongono una forma di autocensura per proteggersi dall'ansia di quanto può succedere loro nel fare alcune cose violando le norme del proprio condizionamento educazionale le persone vengono controllate socialmente mediante le paure condizionalmente imposte imposte attraverso il condizionamento educazionale se nel vivere per sfida quelle persone sono avventate o manifestano delle debolezze dei timori la struttura educazionale non perderà occasione di rinvigorire e di rivitalizzare nell'individuo le sue paure attraverso la sua ansia meditazione ponderazione soppesare gli elementi della nostra azione nella meditazione ma quando si passa l'azione questa deve essere decisa e deve coinvolgere l'intero individuo appunto il vivere per sfida le paure del fantastico non contano le paure del tipo inferno non contano spesso sono un sottoprodotto del nostro negarci la soddisfazione dei bisogni specialmente di quelli sessuali è importante che trasferiamo quanto meditiamo nell'azione nella vita quotidiana è importante che il meditare affronti questioni pragmatiche solo con questioni pragmatiche il meditare fissa i fenomeni dentro di noi e ci modifica è importante che noi siamo consapevoli che quanto è fatto è stato fatto quanto ci è stato fatto ci è stato fatto quanto abbiamo costruito come adattamento al mondo lo abbiamo fatto ed è dentro di noi questo non lo possiamo più negare o cancellarlo ma possiamo sedimentare sopra di esso altre cose possiamo dare a quella struttura un diverso significato dentro di noi o una diversa collocazione psichica da esperienza negativa possiamo trasformarle in un'esperienza positiva ma non possiamo cancellarla questo è l'unico significato positivo di un eventuale conosci te stesso da cui modifica te stesso solo modificando te stesso puoi conoscere te stesso perché conosci la direzione e l'intento del tuo modificarsi ne abbiamo già parlato la volta scorsa la paura e i timori non saranno mai rimossi ma il pragmatismo dell'esistenza li colloca nella dimensione di non nuocere all'individuo e nello stesso tempo di ricordare all'individuo che la tensione della vita e quanto le sue scelte devono soddisfare vado velocissimo perché voglio finire la meditazione la paura è un segnale di allarme emotivo di un pericolo ritenuto reale nel mondo della volontà e dell'azione questo segnale fa scattare la reazione soggettiva prima della concretizzazione del fenomeno pericoloso 1 la ragione fa seguire la reazione solo dopo la descrizione del pericolo in questo caso danneggia l'individuo 2 la ragione riveste la paura con elementi del proprio descritto impedendo in questo modo all'individuo di affrontarla a nel primo caso viene ovviato sospendendo il dialogo interno cioè impedendo la ragione di far precedere l'azione alla descrizione b il secondo caso viene ovviato attraverso la meditazione che in questo caso porta a spogliare la paura da descrizione della ragione del tipo i ragni mi incutono timore analisi i ragni non hanno strumenti per incutermi timore deduzione la paura del ragno ne nasconde la paura di qualcos'altro meditazione ricerca di cose la paura nasconde ciao a tutti vi do appuntamento per giovedì prossimo non do neanche il via alle telefonate mando immediatamente la sigla e la pubblicità prossima volta nella sera continueremo con la contemplazione ciao a tutti e ricordate il sito www.federazionepagana.it nel quale stiamo caricando anche le immagini di Ricchi ciao a tutti e a risentirci